dei dati, vi daremo anche il nostro comunicato, prima di voi 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 sei io, insomma, e poi vi darò ovviamente il comunicato, è un anno che vuoi, ovviamente, vi daremo ovviamente delle, queste indicazioni, le rapide, come ha detto il signor Gerale, in effetti abbiamo avuto un cavo. Una deposizione di corone, due parole e la colseggia ce le riconvenza. Signori, io vi ringrazio di cura. Allora Palma mi ha dato, come sempre, una buona, una buona informazione. Io la volevo fare verso le 12, 12 e 30. Quello è peggioro. Va bene, va bene, un paese che va, io senza che non la facciamo stare. Va bene, che vi devo dire? Buona giornata, ripeto, grazie per essere venuti. Quest'anno, oggi, 5 giugno, fase, fase, come dire, attuate con grande sobrietà e all'interno di nostre caserme e senza individui. Quindi noi acceregheremo questa denominazione. Caserma che sarà oggetto adesso di una profonda ristrutturazione, lavori che inizieranno in autunno, la prima tranche dei lavori e che vedrà, si spera, fine 2014, inizio 2014, in via Ciccotti, nella sede della Caserma Lutane, dove si trasferirà come prima fase il comando, questo comando di Giorgio. Poi si trasferirà l'altra sede di via Appia, Ciccotti, ma ci vorrà un po' di tempo, e infine, se così, ma ci vorranno anni, ovviamente per i dubbi esigenze di natura finanziaria, anche il comando provinciale. Via Proetoria, via Proetoria, andremo tutti quanti in via Ciccotti, nella cosiddetta caserma a potenza, viene conosciuta come... Grazie a tutti.